con tanto amore da quando siete piccole faccio del mio meglio per non farvi mancare niente vado a lavorare tutti i giorni per crearvi un ambiente caldo e confortevole vi ho comprato graffiatoi con cucette vi ho lasciato i miei cuscini preferiti vi ho comprato casette calde per l'inverno poi un giorno torno a casa dopo il lavoro e quello che vedo mi sciocca totalmente e mi ferisce profondamente vedo te che te ne stai dentro una scatola di cartone brutta ingrata e mi fissi con lo sguardo freddo indifferente lo so che non te ne frega niente ma è tutta colpa mia dovevo capirlo subito quando invece di rampicarvi sul tiragraffi fino al soffitto preferivi startene lì a guardare la tv spenta